Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi e ritorna con la mente a questa mattina quando ti sei svegliato nel letto. Probabilmente è suonata la sveglia e dopo averla posticipata di dieci minuti, non senza qualche imprecazione, ti sei ritrovato disteso nel letto, completamente rilassato, ma sveglio. Ammettiamo che fossero passate almeno 12 ore dalla cena e che nella tua camera da letto ci fosse una temperatura di circa 20 gradi o poco più. La temperatura ideale in cui si sta così bene perché né si suda né si ha freddo. Stranamente la notte è stata anche abbastanza riposante e, fatto ancora più curioso, non ti è ancora venuto in mente che dovrai litigare tutto il giorno in ufficio e quindi per ora sei davvero rilassato. Potremmo anzi dire che sei in uno stato di profonda quiete, senza pensieri particolari. Tu in questo momento sei inattivo, ma diverso è il caso del tuo corpo. Intanto stai respirando che significa che i tuoi muscoli intercostali e il tuo diaframma stanno lavorando. E che dire del cuore? Lui non si ferma mai, così come di fatto non si fermano mai i reni, il fegato e tutti gli altri organi. E poi ovviamente c'è lui, il cervello, a fungere da infaticabile direttore d'orchestra per dirigere questa meravigliosa sinfonia. Organi apparati per svolgere la sottovalutata funzione di mantenerti semplicemente in vita sottovalutata perché si tratta di funzioni involontarie e in gran parte anche invisibili, ma che richiedono necessariamente un contivo, un costante apporto di energia. Ecco, questa energia rappresenta il metabolismo basale, ovvero la minima quantità di energia necessaria per mantenere in vita l'organismo a riposo e in genere si esprime in termini di calorie giornaliere. Il metabolismo basale è quindi la quantità di calorie giornaliere necessaria a mantenerti in vita, fermo, immobile, rilassato e si stima che sia così ripartito tra i diversi organi. 27% al fegato, 19% al cervello, 18% ai muscoli, 10% ai reni, 7% al cuore e i restanti organi un totale di 19%. Il costo energetico del mantenerti in vita, il metabolismo basale appunto, dipende da diversi fattori, alcuni non modificabili e altri sui quali possiamo intervenire con lo stile di vita. Genetica. Una parte del tuo metabolismo basale è determinata dai geni che hai ereditato da papà e mamma. Alcune persone sono naturalmente predisposte ad avere un metabolismo un po' più veloce o un po' più lento, ma nonostante il pensiero comune le variazioni davvero significative sono rare, quindi incolparla genetica per un eventuale sovrappeso è in genere un errore. 2. Età. Con l'avanzare degli anni il metabolismo basale è vero, tende un po' a rallentare. Questo è dovuto soprattutto alla perdita di massa muscolare e all'aumento di massa grassa, metabolicamente molto meno costosa da mantenere, ma certamente anche una progressiva perdita di funzionalità di alcuni organi, può incidere. Indicativamente si stima che il metabolismo diminuisca dell'1-2% ogni decennio dopo i 20 anni. 3. Sesso. No peperino, non come pensi tu. A parità di peso e altezza, gli uomini hanno in media un metabolismo basale più alto delle donne, questo perché hanno anche generalmente una maggior quantità di massa muscolare. 4. Peso e composizione corporea. Più una persona è pesante, più alto sarà il suo metabolismo basale, perché c'è fisicamente una quantità maggiore di cellule da mantenere in vita. Come abbiamo già detto poi, la massa muscolare ci costa di più rispetto a quella grassa. In questo caso è per un costo che siamo ben felici di spendere, un investimento, un po' come se avessi due figli, un universitario che per studiare richiede un continuo apporto di soldi, i muscoli, rispetto a un figlio fannullone, che invece vivacchia tutto il giorno senza fare nulla, il tessuto adiposo. 5. Gli ormoni. Alcuni ormoni, come quelli tiroidei, influenzano il metabolismo basale. 6. Alimentazione. Seguire diete troppo restrittive per lunghi periodi di tempo può indurre adattamenti metabolici, ovvero rallentamenti del metabolismo basale, come meccanismi di difesa dell'organismo. E' peraltro in questo contesto che si osserve l'andamento yo-yo del peso, ovvero quando si recupera addirittura più peso rispetto a prima. 7. Attività fisica. Praticare regolarmente esercizio fisico, soprattutto di tipo anaerobico, come ad esempio gli esercizi con i pesi, può indurre meccanismi di vario genere che influiscono anche sul metabolismo basale. Attenzione, non mi riferisco all'energia necessaria a correre, saltare o pedalare, ma proprio a una serie di adattamenti cui il corpo va incontro se pratichi regolarmente una qualche forma di movimento, che influiranno anche sulla tua spesa energetica a riposo. E poi ovviamente entrano in gioco anche altri fattori come temperatura esterna, stato emotivo, abitudini al consumo di sostanze termogeniche come il caffè, condizioni particolari come allattamento, fasi del ciclo mestruale o guarigioni da traumi eccetera, ma si stima che età, sesso e massa magra rendano conto di circa l'80% della variabilità di metabolismo basale tra le diverse persone. Se volessimo tradurlo i numeri, considera che il muscolo a riposo, per il solo fatto di esistere, richiede 10-15 kcal per chilo al giorno contro le sole 4-5 del tessuto adiposo, che poi se ci pensi in termini assoluti non è nemmeno tantissimo. Mettere su 5 kg di muscoli ti consentirebbe ad esempio di mangiarti mezza merendina al giorno in più, ma è comunque 2-3 volte il consumo del grasso. A titolo di curiosità, se un chilo di muscolo consuma circa 12 kcal al giorno, il cervello a parità di peso ne richiede 2-40, cuore e reni addirittura 440. Escludendo i fattori non modificabili come età e sesso, non è quindi difficile individuare nel peso e nel rapporto fra massa grassa e massa magra gli elementi più importanti su cui intervenire per modificare il metabolismo basale. Inutile dire che ovviamente, soprattutto in questo contesto storico di abbondanza ed eccesso calorico, è davvero importante puntare a costruirsi un metabolismo basale che possa essere il più vivace possibile, ma seguimi fino in fondo perché ti consiglierò un video per capire come fare. Il metabolismo basale è una delle tre componenti del fabbisogno calorico totale, ovvero di quante calorie spendi complessivamente durante la giornata non solo per sopravvivere, metabolismo basale appunto, ma anche per muoverti, per compiere qualsiasi tipo di azione e, non ultimo, l'energia richiesta per digerire, assorbire e metabolizzare i nutrienti introdotti con l'alimentazione. Capito questo concetto, ti faccio una domanda. Secondo te quanto incide in percentuale il metabolismo basale sul tuo fabbisogno calorico complessivo? Di tutte le calorie che bruci durante la giornata, quante di queste ti servono semplicemente per sopravvivere e quante invece per lavorare, camminare, chiacchierare al bar con gli amici? Il metabolismo basale rappresenta il 60-75% del tuo fabbisogno calorico giornaliero totale. Se sei sedentario, circa 3 calorie su 4 ti servono solo per mantenerti in vita, il metabolismo basale rappresenta cioè la più importante voce di spesa del tuo organismo. Per quanto tu possa essere attivo durante la giornata, è raro che il corpo spenda più calorie di quante gliene servono per rimanere semplicemente in vita. Della quota restante, circa il 20% delle calorie se ne vanno in attività fisica di qualsiasi genere, il rimanente 10% in costi di digestione del cibo. Se ci pensi questo un po' diverso dal pensiero comune, intendo dire che a meno di praticare davvero grandi quantità di attività fisica, diciamo almeno 7-8 ore di attività sportiva intensa alla settimana, oppure magari essere impegnati in un lavoro fisicamente impegnativo come il muratore, la quantità di calorie sotto il tuo controllo è relativamente scarsa ed è per questo che per dimagrire è sempre determinante la dieta, perché l'attività fisica da sola difficilmente riesce a compensare un apporto calorico eccessivo. Ti faccio un esempio concreto. Immagina un uomo di 30 anni, 70 chili, sedentario. Il suo fabbisogno calorico giornaliero è di circa 2.500 calorie, di queste circa 1.800 gli servono per rimanere in vita, immobile, in un letto, senza fare nulla. E se consideri che una corsa fra le attività sportive più energicamente costose, diciamo di 10 chilometri, gli farebbe bruciare circa 700 calorie. Facile comprendere che pensare di dimagrire solo attraverso l'attività fisica, a meno di non farla davvero tutti i giorni, sia partire col piede sbagliato. Ma io lo so che tu sei un birichino curioso e vuoi sapere come si calcola il metabolismo basale. Giusto? Per una stima precisa del metabolismo basale è necessario possedere una specifica attrezzatura da laboratorio in grado di misurare il consumo di ossigeno in condizioni di riposo, come quelle descritte all'inizio del video. Inutile dire che negli anni sono ovviamente state proposte alternative, più o meno precise, per approssimare il valore. Per esempio una stima molto grossolana si ottiene ipotizzando il consumo di una chilocaloria per chilo di massa corporea all'ora, 0,9 per le donne, e questo significa che per ottenere il valore di metabolismo basale è sufficiente moltiplicare il tuo peso corporeo per 24 e poi, se sei una donna, per 0,9. Evidentemente questo approccio non tiene conto di alcuna variabilità, quindi se è vagamente accettabile a livello di popolazione diventa davvero poco utile per la persona. Meglio fare riferimento a formule un po' più complesse che prendano in considerazione non solo il sesso, ma anche fattori quali peso, altezza ed età. Si tratta di equazioni più complicate, ma disponiamo ovviamente di calcolatori come quello messo a disposizione dalla società italiana di diabetologia che ti richiedono semplicemente di inserire i tuoi dati. Ti lascio il link in descrizione. Come promesso qui ti lascio il video per accelerare il metabolismo prodotto dei ragazzi super competenti di Project Invictus. Da questa parte invece ti lascio un mio vecchio video dove c'è la spiegazione del perché l'attività fisica sia comunque assolutamente indispensabile, ma soprattutto lascia che ti dica grazie, grazie, grazie di cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Ricorda però che uno sconosciuto non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante né il tuo nutrizionista, perché solo loro possono conoscere e quindi tenere conto delle tue specifiche esigenze. Grazie ancora, ciao!